L'agricoltura chiaramente non è solamente un settore chiave del nostro sistema produttivo, del nostro tessuto economico ma rappresenta anche uno dei segni distintivi della nostra identità, del nostro essere italiano, del nostro essere europeo e oggi affronta chiaramente una crisi sistemica rispetto alla quale un vertice come quello del Consiglio europeo non può non interrogarsi alla ricerca di soluzioni concreti. Sono problemi che gli stessi padri fondatori dell'Europa avevano intravisto, di cui erano perfettamente consapevoli quando hanno costruito la comunità economica europea, quando hanno immaginato la politica agricola comune. Oggi noi abbiamo bisogno di adattare quella politica agricola comune, gli obiettivi rimangono sempre gli stessi ma gli strumenti devono essere adattati a un contesto in continua mutazione. Abbiamo questa realtà nella quale i prezzi di produzione continuano ad aumentare, i costi di acquisto continuano a diminuire e noi non possiamo gravare ulteriormente ai nostri agricoltori anche di regole insostenibili, di burocrazia insostenibile. Non possiamo non tenere in considerazione il fatto che la filiera dell'agroalimentare è una filiera fondamentale nelle catene di approvvigionamento strategiche per la propria sovranità. L'ultima proposta della Commissione che è stata oggetto del dibattito nel Consiglio in termini di revisione della politica agricola comune va nella giusta direzione anche ovviamente grazie al vostro lavoro, al nostro lavoro comune. Ci sono molte delle proposte che l'Italia ha fatto, la novità con la quale vengo fuori dal Consiglio europeo e che per noi era molto molto importante che nelle conclusioni del Consiglio ci fosse anche un riferimento alla capacità di prorogare il framework sugli aiuti di Stato in agricoltura fino alla fine dell'anno. C'è un importante riferimento nelle conclusioni del Consiglio europeo anche a questo elemento. Chiaramente è un'iniziativa sulla quale dovremo continuare a lavorare perché arriverà nel prossimo Consiglio. è stato chiesto alla Commissione di fare una valutazione, di portarla nel Consiglio di aprile e quindi sarà sicuramente oggetto del nostro lavoro per le prossime settimane. Il punto in buona sostanza è questo. Quando noi facciamo sistema, quando lavoriamo tutti nella stessa direzione io penso che non ci sia niente che non possiamo provare a fare. Lo dimostra, lo voglio dire anche qui, il risultato che abbiamo raggiunto sulla direttiva imballaggi e rifiuti da imballaggio.